Grazie, non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione l'1.19 Villarosa, parere contrari. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Chi menti? Qualcun altro non ha votato? Allora... No, sembra che abbiano votato tutti. Sì, dichiaro chiusa la votazione. 76 favorevoli, 273 contrari, la Camera respinge. 1.24 Alberti Villarosa, prego. Presidente, durerà 8 secondi, le chiedo 8 secondi di attenzione. 8 secondi. Lei ha tutta la mia attenzione, come gli altri deputati. 8 secondi lo so, di maggiore attenzione. Leggiamo insieme questo emendamento. Allora, chiediamo di introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi di interesse applicati dai confiti, addirittura utilizzando le Camere di Commercio. Come si fa a bocciare un emendamento del genere? Me lo spiega. Come si fa a bocciare un emendamento del genere? Chiediamo un monitoraggio dei costi e dei tassi di interesse e si boccia un emendamento del genere, tra l'altro in una delega. Ma vergognatevi, fate rire. Allora, 1.24 Alberti, pareri contrari. Dichiaro aperta la votazione. Andrea Romano. Vecchio, Cassano. Qualcun altro? Cassano. Ci siamo? Sembra di sì. Grazie. 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 Grazie.